Albano Carrisi spegne le speranze di Romina Power . Parla, ancora, Albano Carrisi. Lo fa in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini, dove afferma di essere finalmente l'uomo più felice del mondo. Poi, però, le parole sul dolore più grande della mia vita, la scomparsa della figlia, Ilenia Carrisi, so che è in paradiso e la raggiungerò, afferma il cantante. . Insomma, Albano mostra di non credere al fatto che Ilenia sia ancora viva e che, magari, possa aver perso la memoria, così come è recentemente tornata a ipotizzare la madre, Romina Power. .